Ehi, DK, mi ricevi? Chi sei? Io sono Ania, tua nuova assistente. Piacere di conoscerti, DK. Devi raggiungere il sergente Derek. Dove ti trovi adesso? Mi sto... dirigendo il campo base. Sei solo? Sì, il soldato venne accompagnato. È morto nell'esplosione. Ok, ritenerò tutti i superiori. Sì, è morto nell'esplosione. Sì, è morto nell'esplosione. Sì, è morto nell'esplosione. Sì, è morto nell'esplosione. Ehi, c'è qualcuno qui? Ania, mi ricevi? Qui non c'è nessuno. Ti ricevo? Strano. Cerca di capire cosa sia successo. Sì, è morto nell'esplosione. 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 Una statuetta simile l'ho vista in un famoso film. Che incubi da bambino. C'era il sangue. Credo che la situazione sia peggiore di quanto pensassi. Alla villa del sindacolo. Ok, Yeti, teniamoci in contatto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.